Passiamo la linea a Firenze, passiamo la linea a Firenze straordinariamente in breve vogliamo sapere le ultime, vedi da Siena andiamo a Firenze dove troviamo Renzi Renzi, pronto onorevole, sindaco Pronto, no, no, diciamo più che Renzi ora qui si cerca di, siamo un po' in portavoce che a Firenze del Renzi perché Renzi è sempre a giro, non è mai a Firenze anche ieri sera era da Fazio e quindi qui ci sta all'ufficio e si cerca un pochino di carpire quelli che sono i pensieri della gente perché Renzi sta attento, a differenza degli altri esponenti di PD ai pensieri della gente e noi cerchiamo di andare incontro insomma al popolo al vero popolo, non al palazzo come è il fratello di Benigno continua, continua la gente si domanda in sostanza in breve se puoi darci l'idea se la futura battaglia politica sarà Renzi Grillo, Grillo, Renzi e se gli otto punti di struttura eh volevo dire gli otto punti di gli otto punti l'ha detto anche Renzi ieri da Fazio anche se fossero nove questi punti perché loro ci hanno questo finanziamento è partiti solo Grillo lo deve dire che bisogna levarlo e alla fine la gente vota solo Grillo io l'avevo detto alle primarie cioè io e noi del comitato dei presidenzi, Florenti si è detto tutti l'ha detto i presidenzi sempre no al finanziamento dei partiti ora questa battaglia l'ha portata avanti Grillo e ha vinto Grillo Dorsani c'ha questi otto fossero nove no hai capito? va bene ho già capito tutto quindi la battaglia sarà fortissima tra i due ho già capito tutto grazie grazie non finisce qua eh ci collegheremo tienici informati sicuramente ciao ciao aeri Mottina da Firenze